Il traghetto erano due zatteri in ferro collegate tra loro con delle asse di travi così, portavano fino a 10 macchine di una volta. Poi era trainato da un rimocchiatore con una corda d'acciaio e lì si passava dall'altra parte, si traccava di là, si passava di qua e c'erano le donne che venivano a tagliare il tabacco così, raccogliere i comodori, 30 o 40 donne. Quindi era sempre trainato. Non era una barca sola? No, erano tutte le ruote, legati tra di loro con delle altre strade, un piano sopra e ci stavano sono 10 macchine di una volta, 10 macchine di una volta, fino a quando ha continuato? Fino a 70, 70, 70. E adesso? Qui siamo nella provincia di Tremona, Tremona siamo a Stagno Lombardo, c'è la strada lì dall'artella, c'è un ristorante. Grazie.